Ciao, sono Marta Santori e ho appena terminato il corso professionale da chef qui all'Italia Chef Academy. Ho deciso di frequentare questa accademia perché volevo portare il mio lavoro a un livello superiore e ho imparato moltissimo qui. Tutto il corpo docenti è estremamente competente e professionale e ci ha dato modo di imparare non solo le basi ma anche diversi aspetti di approfondimento nell'ambito della cucina. Questo percorso mi ha portato a poter svolgere un tirocinio presso un ristorante stellato a Colina a Roma che sicuramente sarà molto positivo per la mia carriera futura.